Ci troviamo in via Manuzio nella parte alta della via, proponiamo appunto per una locazione per studenti questo appartamento molto bello, è appena stato ristrutturato in tutte le sue parti, quindi inizia, questo è l'ingresso e continuiamo, come dicevo appena stato ristrutturato, a giorni verranno inseriti i letti e gli armadi. Questa è la prima camera, particolarmente ampia, come si può ben vedere, dotato poi di questo spazio, sarebbe una dispensa, quindi la metratura è molto generosa di questa camera, possiamo vedere il panorama, ecco apriamo la finestra, questo è il panorama che gode la prima stanza, come si può vedere è un panorama eccezionale, completamente aperto. Continuiamo con la vista dell'immobile, quindi usciamo da questa bellissima camera, ci dirigiamo verso il corridoio, i pavimenti sono in graniglia, lucidati e qua abbiamo naturalmente la cucina, anche se nuova, come si può ben vedere. Il panorama è dotato della cucina della porta finestra, la quale ci permette di uscire appunto su questo bellissimo balcone, apriamo la finestra, quindi usciamo dalla cucina e qua abbiamo il balcone, con questa bellissima vista, quindi possiamo apprezzare per intero la vista del balcone. Rientriamo nell'immobile, quindi questo è tutto il balcone, la calderina è nuova, sono quelle a condensazione e quindi alta efficienza energetica. Rientriamo nel corridoio e ci dirigiamo verso la seconda camera, anch'essa di dimensioni molto generose, dotata anch'essa di porta finestra, sulla quale ci fa cedere appunto al balcone che abbiamo visto un momento fa. Ora questo gioco di luci magari non ci fa apprezzare al meglio la luminosità dell'immobile, perché è veramente luminoso, come avete potuto ben vedere dal panorama che si può apprezzare dal balcone. Questa è infine l'ultima camera, un po' più piccola, natural rispetto alle altre due, però naturalmente ha questa bellissima finestra. Ora, apriamo e qua possiamo ammirare il panorama, quindi ci dirigiamo verso il bagno, quindi questo è il bagno, preciso in tutte, col box doccia, i sanitari, tutto perfetto. Quindi, ripiloghiamo velocemente, abbiamo una camera, la prima camera, questa camera singola, l'altra camera matrimoniale molto grande, questa è sempre anch'essa una camera singola, la cucina, con ovviamente la porta finestra e qua infine abbiamo l'ultima camera, con annesso ovviamente la dispensa. Questo è un appartamento ideale appunto per tre studenti, perché siamo proprio nelle immediate vicinanze delle università.